Beh, qui sinceramente tutti ridono Canne, due gattini, comodini, poverini No, 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 perché devo dire una bella cosa No, perché se voi avete un telecomando per controllare le emozioni, le sensazioni di una sera, di un momento, di un anno, di quello che sia Allora vi prego, datemi questo telecomando Io vivo semplicemente a momenti, emozioni e sensazioni E sentirmi sinceramente giudicata Perché mi sono goduta un momento a vent'anni Qui sinceramente non... Perché la vostra è pura e banale No, la strategia invece sai dove sta Perché guardate come siete arrabbiati Ora che sono state... Ma il nostro piacere è che si tratta delle carte Voi siete realmente innamorati, ci ridereste su su questo No, io non sono innamorata di nessuno State rosicando come due topolini Stiamo conoscendo, ragazzi, non confondiamo il mare con le montagne Io non sono innamorata di nessuno e lo voglio dire qui, come l'ho detto a lui Io ho un interesse a livello fisico per una persona C'è una chimica e un feeling con una persona L'attrazione fisica purtroppo per fortuna non la comandi E l'attrazione mentale ad oggi non c'è E lui lo sa Perché tu continui a parlare di strategie, di cose A creare gelosie, a creare cose Sinceramente anche un po' meno Perché la strategia secondo me la stai facendo tu Che quando io e lui ci avviciniamo tu ti avvicini No, noi abbiamo riso, scusami, mi permetto di contraddirti Non tanto per te, perché rispettiamo i tuoi sentimenti Sia quelli fisici che quelli mentali eventuali Ma per la mia definizione Che mi è venuta spontanea Del playboy Allora Allora